Una cordiale buongiorno, questa è Navacchio, il parcheggio in prossimità del mercato proprio qua di Navacchio nel comune di Cascina. Siamo in compagnia di Munira Alirovic, residente presso il campo ROM di Via del Nugolaio qua a Navacchio e anche lei insieme ai suoi cinque bambini sarà sgomberata a breve dalla comune di Cascina. Allora, lei ha richiesto una intervista in compagnia di Punto Radio e Cascina Notizie per fare un appello alle istituzioni, per quale motivo intanto? Per quale motivo? Perché tra poco sono mezzo alla strada con cinque figlioli, sono andata a cercare anche una casa e non mi dà nessuno un affitto a una casa perché non ho una busta paga e non ho un reddito per prendere la casa e nessuno non me la dà. Sto facendo quelle quattro ore di pulizia per andare avanti con cinque figlioli e tra poco mi ci trovo mezzo alla strada e non so che fare. Sono andata anche al comune per chiedere se mi facevano rimanere ancora un po' dentro al campo, loro hanno detto che non possono fare niente, che l'assistente sociale deve intervenire. L'assistente sociale ha chiesto di tutto, ha chiesto anche la casa di emergenza, ha chiesto altri aiuti e non c'è niente. Il comune di Cascina mi ha offerto 3.000 euro per lasciare il campo nomadi di Via Nugolaio, per andarmene via. Ma io dove vado? Dove vado con cinque figlioli? Allora, sono 3.000 euro offerte dal comune di Cascina, diciamo 500 euro a persona del nucleo familiare, quindi 500 per i cinque bambini e poi 500 per lei, perché lei è intanto montenegrina come nazionalità, vero? Però lei è nata in Italia, parla benissimo in italiano, come abbiamo appena sentito. Ho fatto anche le scuole qui, ho studiato qui, ho fatto fino alla seconda media qui. Mi stava dicendo che le 500 euro a persona al nucleo familiare sono quella, è la quota decisa e stabilita dal comune di Cascina, che ha offerto a tutti gli altri nuclei familiari queste cifre rispetto al proprio nucleo familiare. Ecco, a lei vorrei chiedere com'è che con queste 3.000 euro non è al momento riuscita a trovare una sistemazione diversa dal campo nomadi di Via Nugolaio? Perché nessuno non mi dà una casa senza una busta paga. Perché lei lavora, non lavora, è senza lavoro? Sto facendo le pulizie in nero per andare avanti con cinque figlioli. Beh, insomma, una situazione sicuramente difficile, mi stava dicendo anche che, a differenza di quanto paventato dal comune di Cascina, però insomma anche sempre in via non ufficiale di uno sgombero definitivo del campo di Via Nugolaio al termine dell'anno, quindi già a gennaio 2019, molto probabilmente le voci che corrono sono di una chiusura anticipata, brevissimo, fra pochissimi giorni. Sì, perché hanno detto, hanno già scritto anche che sono andate alla prefettura, hanno già firmato tutti i fogli, che tra poco siamo fuori, che stanno aspettando le ruspe che vengano a chiudere il campo Via Nugolaio. In quanti sono al momento, se ce lo può dire e se lo sa, le persone, quanti nuclei familiari, quante persone su Pergiù sono rimaste al momento ancora al campo nomadi? Perché alcune mi stava dicendo che già hanno trovato nuove sistemazioni. Alcune si hanno già trovato, altre siamo in quattro famiglie ancora che non abbiamo trovato ancora niente. Quattro famiglie per quante persone in totale? Ci sono tanti bambini, saranno più di 12 bambini e più adulti, sono tanti. Lei ha cinque bambini tutti scolarizzati, un bambino anche con 104, vero? C'è un bimbo con la 104 che ha problemi un po' particolari e seri anche. Quindi, insomma, questa è l'occasione, le diamo l'opportunità, visto che comunque ce l'ha richiesto anche lei, noi diamo questo spazio in suo favore per poter richiedere e fare l'appello a chi vuole. Sto facendo, per fare un appello al comune di Cascina che ho bisogno di una sistemazione. Non è che posso andare con cinque figlioli sotto un ponte a stare in mezzo alla strada, sono tutti piccolini. Ho bisogno di un aiuto dal comune di Cascina, non è che con 3.000 euro io faccio chissà che cosa. Ma in questo senso, oltre ai soldi offerti per lasciare il campo nomadi di Via del Nugolaio, il comune di Cascina ha offerto anche qualcos'altro, ha messo un piatto qualcos'altro, magari anche per venire incontro alla sua situazione così particolare, oppure no? Nulla, nulla, niente. Ma chi è che ha interloquito con lei, diciamo, in rappresentanza del comune di Cascina? Siete voi che siete stati in comune, è venuto qualcuno del comune, con chi è che avete parlato? Abbiamo parlato con una responsabile lì del comune, che ora non mi ricordo il nome, però abbiamo parlato con lei che ci ha chiamato con questa riunione, che c'erano le assistenti sociali, c'erano quelli delle responsabili delle case e ci hanno chiamato lì, tutti o uno a uno. Comunque, diciamo, l'appoggio che voi cercate è istituzionale oppure ben volentieri magari siete disposti anche ad accettare un aiuto da parte di privati o di qualcun altro, o magari di qualche associazione? Non so se hai capito, no, intendevo, ecco, l'aiuto che state cercando, diciamo, una casa, che cos'è che cercate? Una casa? Io sì, sto cercando una casa, una sistemazione per i miei figlioli, devono essere anche loro educati come tutti gli altri bambini, dato che vanno a scuola, frequentano la scuola tutti i giorni, devono essere anche loro bambini normali come tutte le altre persone. Ecco, allora, io stavo dicendo, no, e le stavo chiedendo, dato che comunque i bambini hanno bisogno di una casa e lei ha bisogno di una casa, ecco, è disposta magari, questa è anche un'opportunità che le diamo, no, è uno spazio, magari ci vede un privato che ha a disposizione una casa, di una casa da affittare, ecco, siete disposti anche a prendere una casa in affitto di un privato? Certo, sì, sì che sarei disposta a prendere una casa in affitto, volentieri, subito ci andrei, non è che non ci vado, non è che posso lasciare i miei figlioli in mezzo alla strada? Comunque il campo nomadi di Via del Nucoloio verrà chiuso, questo è certo, ci lascerà, quanto ci ha vissuto intanto e cosa ci lascia, insomma, in quel campo nomadi? Tanto, tanto, tanto. Ha vissuto tutta la vita lì? Non tutta la vita, sono stata anche quattro anni a Ponte d'Era che abitavo prima e poi sono ritornata di nuovo qua, che avevo i miei genitori, avevo i miei nonni, la mia famiglia e sono ritornata di qua. No, perché spesso si parla, no, dei campi nomadi, sempre in accezione negativa, no, sporcizia, incuria e tutto quel che poi ne viene, che viene raccontato spesso dai giornali, ecco, lei ci ha vissuto per così tanto tempo, insomma, ci lascia un pezzo, è casa sua, ecco. Certo, certo, sì, sì. Va bene, allora ringraziamo ancora il nome e cognome? Alilovic Munira. Munira Alilovic per questa testimonianza, facendole i maggiori auguri in bocca al lupo per questo, che sarà sicuramente a brevissimo, un cambio di vita radicale, ecco, per lei e per i suoi cinque bambini. Va bene, grazie. 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 Grazie.